Cosa c'entrano le streghe proprio qui? Le streghe che incutono timore ai bambini nei loro incubi in realtà possono disturbare talvolta anche gli adulti soprattutto quando si parla di finanza. E allora scherzi a parte chi sono? Cosa sono le tre streghe della finanza? Il giorno delle tre streghe cade il terzo venerdì nell'ultimo mese di ogni trimestre quindi parliamo di marzo giugno settembre e dicembre e corrisponde alla scadenza o per meglio dire il rollover ma noi parliamo di scadenza simultanea questa è una delle parole chiave di vari contratti di futures e opzioni. In realtà se volessimo essere più precisi occorrerebbe dire il giorno delle quattro streghe perché a quelli che abbiamo già individuato bisognerebbe aggiungere anche gli indici come scadenza simultanea però questa espressione non è mai stata utilizzata troppo dai traders che preferiscono dire appunto il giorno delle tre streghe. Molti futures su indici azionari statunitensi opzioni su indici azionari opzioni su titoli azionari scadono proprio in questi giorni come già detto la scadenza è simultanea e questa è la particolarità. Il giorno ha la sua importanza però ciò che fa più paura ciò che è più pericoloso è l'ora che è individuata nell'ultima ora della sessione statunitense 3-4 parliamo dell'ora di New York quindi se vogliamo riportarla in Italia corrisponde alle 21-22 ora italiana ma cerchiamo di capire perché questo evento fa così paura e torniamo quindi dalle nostre tre streghe. L'evento causa una forte volatilità sui mercati azionari americani quindi di conseguenza volatilità per tutto il mercato globale per tutto il mercato mondiale e andiamo anche a vedere quali sono gli effetti di questo giorno delle tre streghe. I contratti di futures e opzioni a differenza di un titolo azionario hanno una data di scadenza questo è il punto di partenza nel corso della durata di questi contratti i trader piazzano le loro scommesse e il giorno delle tre streghe è proprio un giorno fa ti dico perché i trader devono decidere se insomma rinnovare i loro contratti futures quindi mantenendo una posizione su un contratto non scaduto oppure se chiudere queste posizioni che potrebbero essere in acquisto o in vendita a seconda della direzione del proprio posizionamento originale. Anche i traders di opzioni negli stessi giorni scoprono se la propria posizione si chiuderà in guadagno o in vendita. Nel giorno delle tre streghe inoltre gli operatori con posizioni di rilievo su questi contratti possono essere incentivati finanziariamente a cercare di spingere in maniera temporanea il mercato sottostante verso una certa direzione quindi con il fine di influenzare il valore dei loro contratti e ci sono proprio dei giorni specifici in calendario i giorni delle tre streghe. Nel calendario di quest'anno del 2020 la prossima giornata è fissata per il 19 dicembre. Queste sono le pillole informative di Le Fonti TV. Grazie per essere stati con noi e alla prossima.